Parliamo di fili che oggi sono tanto di moda, tanto si sente parlare, le pazienti arrivano chiedendo già i fili. Che cosa sono? Sono fili riassorbibili, possiamo distinguere due grandi categorie, i fili rivitalizzanti e i fili trazionali. I fili rivitalizzanti sono fili che si introducono nel derma e che vanno a stimolare la rigenerazione fibroblastica e la produzione di collagene con un effetto di ricompattamento cutaneo e di leggero effetto tensore. Si possono mettere diversi fili, ce ne sono di diversa lunghezza e a seconda delle zone che andremo a trattare prediligeremo una lunghezza o un'altra e una direzione piuttosto che un'altra di inserimento. E poi abbiamo la famiglia invece dei fili trazionali che sono fili che hanno dei coni o delle barbe a seconda della marca e della tipologia di fili che scegliamo e vengono inseriti in un modo particolare per dare appunto questo effetto trazionale.